Ciao a tutti da Cristian Ticezza, collaboratore del blog, con me un grandissimo artista di cuore che mette delle bellissime vibrazioni, Enzo Granagnello. Ciao. Salutiamo tutti i tuoi fans. Già l'hai fatto, ciao a tutti. Ecco, abbiamo detto Enzo Granagnello che ha una sorpresa breve per tutti voi. Sì, sì, sì. Ha finito il disco mio. Perciò aspettate. Aspettate che ne vedremo delle belle, ne vedrete delle belle. Ciao a tutti, Cristian Ticezza, grande Enzo Granagnello. Ciao. Saluteo tutti i amici di YouTube, Westface, Facebook e Twitter. E un saluto a Napoli, lo vediamo? Certo. Salutiamo Napoli. Ciao.